1. Buongiorno. Sob bheir. Buona giornata. Ruseghoop. Buon pomeriggio. Asr bheir. Buonanotte. Shab bheir. Per favore. Lutfan. Prego. Chahesh mikonam. Si. Are. No. Na. Buona. Chubb. Cattivo. Bad. Piacere di conoscerti. Az mulagate shumma khushbachtam. Di dove sei? Shumma ahl kohja hastid. Che cosa fai? Che khaar mikoni. Qual è il tuo numero di telefono? Shumma re telefone shumma chi ist? Grazie mille. Khayli mamnun. Mi dispiace. Muteassifam. Suona bene. Be nazara alim yad. Io non capisco. Man nemi fahmam. Potrebbe ripetere? Per favore? Emkan darat dobori tecrar konit. Puoi aiutarmi? Mi shebe man koh makkonit. Quanto costa questo? Khaymat e in chagatast. Come posso aiutarla? Che gune mi tavanam be shumma koh makkonam. Per favore chiamami. Lottfan ba man tamo a spegir. Nessun problema. Mushkelinist. Buon compleanno. Tavallodat mubarak. Stia attento. Muraqeb bosh. Non preoccuparti. Negaran nabosh. Aiuto. Komak. Come stai? Cetor hastid. Non ti sento. Man ne mitavanim shumma rabbe shnavam. Non mi piace. Man han radust nadavam. Se hai bisogno del mio aiuto, per favore fammi sapere. Agar be komake man eh ti ajdarit, lottfan ba man et te la daid. Ti amo. Dustat taram. Sono felice. Man khusholam. Sono molto impegnato. Non ho tempo adesso. Sarum kheli shulughe. Al an waht nadaram. Penso che sia molto buono. Benazere man kheli khubast. Solo un momento. Farhat yek lahse. Certo. Alba te. Penguin Odeebook dot com. 2 Questo è molto importante. In besiare mohemma st. Voglio. Man mi khahem. Non voglio. Man ne mi khahem. In cui si? Kujo? Kujo? Dov'è? Kujoast. Dov'è la toilette? Dast chui kujoast. Quanto? Cerat cemir dar. Quanto costa, o, quanto costa? Qehmato an cendast, yoccerat hazine dorat. Orologio, in punto. Saat. A che ora? Cezamoni. A che ora? Dov'è la stazione ferroviaria? A yoyin. Dove si trova la stazione ferroviaria? Istkahe ghat ar, kujoast. Dove sono i bagni, per favore? Tualet kujoast, lutfan. Alla stazione dei treni, per favore. All'aeroporto, per favore. Be terafe furudga, lutfan. Mi piacerebbe. Man mi khaham, man tamayul daram. Vorrei un taxi. Man yek taxi mi khaham. Mi chiamo Anders. Come ti chiami? Ismè man Anders est. Ismè shoma chi è? Il mio nome è Maria. Ismè man Maria est. Il tuo cognome? Name khonbadigi e shoma. Qual è il tuo lavoro? Borai amrari maas, ce c'è car mi koni? Sono un fotografo. Man yek akas estam. Cosa studi? Che c'izzi mottalee mi koni? Sta studiando inglese. Man daram inglese mi khonam. Dove vivi? Kujo zindegi mi koni? Come ti chiami? Ismè shoma chi è? Mi chiamo Anna Peterson. Ismè man Anna Peterson est. Da dove vieni? Ahl kujo it. Vengo da Uppsala ma vivo a Stoccolm. Man azo Uppsala mi aiam amma dar Stoccolm zindegi mi konam. Qual è la tua professione? Borai amrari maas, ce c'è car mi koni? Sono un autista di autobus. Man ronande autobus estam. Penguin Audiobook dot com. 3. Grazie e arrivederci. Mamnun wa khudu hafiz. Arrivederci. Khudu hafiz. Com'è il tempo? Havacetore. Cosa vorresti mangiare? Dostari cibi khuri. Molte grazie. Khayli mamnun. Grazie. Mutashekiram. Hotel Bellman, buongiorno. Hotel Bellman, sobbe khair. Buongiorno. Hai una stanza libera? Sobbe khair. Aia otaq khuali dariid? Per una persona? Borai yek nafar. Sì, per una persona. Bale, borai yek nafar. Per oggi? Borai emruz. No, per domani. Nè, borai farda. Per una notte. Borai yek shab. No, per sei notti. Nè, borai sheesh shab. Sì, abbiamo una stanza libera. Bale, ma yek utaq khuali darim. Oh, che bello. Quanto costa? Oh, alie. Qiemetash chande. Cento euronotte. Yek hezar yurro dar har shab. Cosa vorresti mangiare? Duostari ci be khori. Due panini speciali, per favore. Do sandvić wije, lotfan. E bere? Ve borai yenushidan. Una grande birra chiara e acqua, per favore, dopo pranzo. Lotfan, yek abjuva o abe bezorg tehyekonit, badaz ghazla. Posso pagare? Maitonem par dachkonem. Certamente. Saranno diciotto eurro. Qatran. In sadu hashtod yurro khuahat boud. Grazie. Il treno è in ritardo, purtroppo. Ba tashakkor. Mutassifane qatar be tachin ruftada ast. Sì, c'è una partita di calcio a Madrid. Bale, yek bazie futbol dar madrid bargozor mi shawad. Sì, ci vado anch'io? Quando arriverà il treno? Bale, man ham anja mi revam. Che moghe qatar mi haiat? In mezz'ora. Quando inizia la partita? Da neam saat. Musabeghe az ce zamani shuru mi shawad. Vorrei un biglietto per viaggiare. Man baro yesafar biliet mi khawam. Un biglietto per? Yek biliet be. Il treno per Madrid. Qat or be Madrid. Il treno da Madrid. Qat oras Madrid. Il treno da Madrid a Parigi. Qat oras Madrid be Paris. Primo. Avvalin. Prima classe. Daraje avval. Seconda classe. Daraje dovum. Un biglietto di sola andata. Balizzi ek tarafhe. Un biglietto di andata e ritorno. Balitraft labbargasht. Non fumare, non fumatore. Sigorkesidan mamnu. Burude sigorje mamnu. Penguinodierbook.com Penguinodierbook.com Kodam adat. Kodam adat. Quale posto? Kodam sandalí. Posto numero 5. Sandalí e shumare panj. Il biglietto per la prenotazione del posto. Balite reserve sandalí. L'orario, l'orario. Jadwal e zamani, barna me. Il primo treno. Avvalin quetar. Il secondo treno. Qatar dovum. Il prossimo treno. Qatar badi. L'ultimo treno. Ákherin qatar. I soldi. Pool. La banca. Banc. Dov'è la banca? Banc coja st? L'ufficio di cambio valuta. Daftare sarrafi. Vorrei cambiare dei soldi. Dost daram miqdari pool avazkonam. Comprare. Kharidan. Vorrei comprare euro. Dost daram euro bekharam. Il tasso di cambio. Nerghe arz. Qual è il tasso di cambio? Com'è il tasso di cambio? Nerghe arz ce ghatra st? Nerghe arz ce guna st? Vorrei una stanza migliore. Man yek utaag behtar, mi khaham. Vorrei una camera con bagno. Man mi khaham yek utaag ba hammam. Quanto costa? Molto costoso. Bessiar geron. È troppo caro. Kheli geron est. Hai una stanza più economica? Aia otaag arzantari darit? Aia otaag arzantari darit? Hai la chiave? Aia kilit darit? Funzione. Non funziona. Non funziona. Non funziona. La doccia è rotta. Doce, kharab est. Vorrei fare una prenotazione? Vorrei prenotare una stanza. Non mi khaham reservo. Non mi khaham yek utaag reservo. A destra. Be samt rast. A sinistra. Be samt čap. Gira a destra. O, vai a destra. Be samt rast pepicit, ya, be ravid ciuma be, samt rast. Girare a sinistra. Be samt čap pepicit. Sempre dritto. Mostaghim jolo. L'angolo. Gusche. Dietro l'angolo. Dar atrof e gusche. La strada. Chiyobon. Penguin Audiobook dot com. Cinque. Dall'altra parte della strada. On taraf e chiyobon. La fine della strada. Inzahoye chiyobon. Per quanto riguarda la banca. Top bank. Fino all'angolo. Ta gusche. Fino alla fine della strada. Ta intahoye chiyobon. Per quante persone. Baraye ciant nafar. Vorrei un tavolo per due. Man mi khaham jek miz barai do nafar. Vorrei questo tavolo. Man in mizra dust taram. Man in mizra mi khaham. Vorrei quello laggiù. Man mi khaham an miz. Anjabashat. Un altro tavolo. Mize digari. Hai un altro tavolo? Hai un mize digari darit? La finestra. Panjare. Vicino alla finestra. O vicino alla finestra. Nas di che panjare? Yo, dar nas di chi panjare. Il menù per favore. Menù, lotfan. Il conto per favore. Surat hesab, lotfan. Incluso. Mashmule. Il servizio è incluso? Aya servizio siamil mi shawad. Vorrei pagare, per favore. Man mi khaham pardag konam, lotfan. Due caffè, per favore. Lotfan do kahve. Vuoi un dolce? Aya deser du stari. Quanto costa questo? Qeymate in ce ghat rast. Vorrei qualcosa di più economico. Man yek ciz arzontar mi khaham. Vorrei qualcosa del genere. Man mi khaham cizii shabih pe in dosh te vasham. Sto cercando. Man bedun bal. Hastam. No, non cosi. No, in tor nist. Grazie molto. Bessiar muta shakkeram. Prego. Khahesh mikonam. Quest'anno. Emsal. L'anno prossimo. Sala ayan de. L'anno scorso. Sali gozashde. In due giorni. Dar du ruz. Entro due giorni. Zarfe du ruz. Due giorni fa. Du ruz pish. Due volte. Do bar. Tre volte. Se bar. Un'altra volta. Yek pare diger. Ancora. Do bari. Puntuale. Bemoghe. Sare vaqt. Engwinaudiabook.com Engwinaudiabook.com 6. Quanto è tardi? Saat c'è ghatast. Ottimo punto. Saat hasht. È l'una. Saat yekast. Sono le otto. Saat hashtast. Otto un quarto. Yek robbe. Bad hasht. Yoh hashto robbe. Otto ore quindici minuti. Saat hashto panzdaht dabiri. Otto e mezza. Nove e mezza. Niem saat bad hasht. Yoh hashto nim. Un quarto alle nove. Yek robbe no. Otto ore cinquanta minuti. Saat hashto panjah. Quattro del pomeriggio. Dieci minuti alle nove. Deh dabiri tano. Otto del mattino. Saat hashto sop. Quattro del pomeriggio. Saat c'haar bad zohr. Otto di notte. Saat hashto shab. Chi? C'è chi ha si, che i. Chi è? C'è chi ha si ast. Che cosa? Ci. Che cos'è? On ci ast. Cos'è questo? Cosa è quello? In ci ast. On ci ast. Cos'è quello laggiù? On giocie. Cosa hai detto? Oh, come per favore. Ci gufti. Bebhaqshit motavajinashodam. Cosa hai detto? Cosa stavi dicendo? Ci guftit. Dosti che c'è chi si mi guftit. Quando? C'è zamani. Quando parti il treno? C'è zamani qat'ar haricat mi konat. In cui si? Kogja. Dov'è la metropolitana? Metro kogja st. Quale? Kodam. Quale autobus va ad Hamburgo? Kodam autobus va ad Hamburgo saffar mi konat. Come mai? C'era. Perché no? C'era che no. Come? Cetor. Come va? Come va? Oza cetor, c'è guna pishmi rabat. Come stai? Cetor hastit. Quanto? Ceradr. Quanti? Cetedat, c'anta. Quanti chilometri? Ciant chilometri. Quanto lontano? T'aco già. Vuoi? I amichahit. Vorresti? Tamo io l'daridio d'ustarid. penguinaudiabook.com Cet, parlo tedesco. Man almanie sohbat mi konam. Nom parlo spanyolo. Man espaniai sohbat nemi konam. Parli spanyolo? Ayo espaniai sohbat mi konit. Un po'. Camí. Da qui a lì. Az in giá to angiá. Alla stazione ferroviaria. Dar istgáheróhe a han. Sulla piattaforma. Rúi e sacru. Nel treno. Dar gazaar. Sto studiando. Sto imparando. Man dar hal mutalehe hastam. Man yad mikiram. Yo studio. Mi sto specializando in. Man tahsil mikonam. Sto andando. Me ne sto andando. Man daram miravam. Man in giá ratark mi konam. Fermare. Tabaquf. Fermati qui. In giá tabaquf konit. Va bene. In oké est. Posso? Io sono capace di. Man mitavonam. Man qader be. Hastam. Posso? Mitavonam. Posso io? E jazadaram. Potrei avere? Mitavonam dosh te vosham e jazadaram dosh te vosham. Da chiamare? Namidan, sedazadan. Mi chiamo, mi chiamo. Esme man. A hast, mara sedam ikonant. Da quale paese? Az kodam keshwar. Da quale paese vieni? Az kodam keshwar mi haid? Vengo. Man mi haiam. Io vengo dagli Stati Uniti. Man az i alat mutaheda amadeem. C'è, ci sono, da. Vujud darat. Vujud darant. In mi dahat. C'era, c'erano, stava dando. Vujud doshed. Vujud doshedant. In doshed mi dat. Io amo. Man asheghastam. Mi piace. Man dost daram. Ti piacere. Dost darit. Mi scusi. Bebaxchit. Barai obur ya gelbe tawajoh. Scusami. Ma azirat mi khóam. Barai oz khóhiye mowadabane. Io. Man daram. Ovviamente. Albatté. Di certo. Gattan. Avete un menú inglese. Aya menú inglesi darit. Andiamo. Bia berim, ya bezan berim. Come si dice? C'egune mi tawangoft, ya, c'egune ye ki mi guiat. Attenzione. Mowaz e bosh. Tavajoh. Tenguenoriabook.com Otto. Per favore ripeti. Lotfán tecrar konit. Voglio. Man mi khóam. Non voglio. Man nemí khóam. Non voglio andare. Man nemí khóam beravam. Non voglio un libro. Non voglio nessun libro. Man yek kétab ra nemí khóam. Man hec kétabí nemí khóam. Mi piacerebbe. Man tamaiul daram. Non mi piacerebbe. Man tamaiul nadaram. Non vorrai viaggiare. Man tamaiul nadaram savar konam. Non vorrai il desser. Man desser dust nadaram. Io ho. Man daram. Non ho, oh, non ho. Man, nadaram. È. In ast. Non è. Innist. Hai. Choma darit. Non hai, oh, non hai. Choma nadarit. Lo so. Man mi dánam. Non lo so. Man nemí dánam. Capisco. Man mi fahmam. Non capisco. Man nemí fahmam. Io parlo inglese. Man inglesie sohbet mikanam. Non parlo spagnolo. Man espanijaí sohbet nemikonam. Mi piacere. Man dost daram. Non mi piacere. Man dost nadaram. C'è ci sono. Vujud darat. Vujud darant. Non c'è, non ci sono. Vujud nadarat. Vujud nadarant. Il salone di bellezza. Salone zibai. Lui è grande. Ubozorgast. È grande. Aya ubozorgast. È grande. Aya inbozorgast. Tu hai una macchina. Tu yek mashin darí. Avete una macchina. Aya shuma autumobil darít. Il trano è alla stazione. Qatar dar istgahast. Il trano è alla stazione. Qatar dar istgahast. Capisci. Shuma mutavagge mi shavid. Capisci. Aya shuma mutavagge mi shavid. È troppo grande. Chilie buzorgast. Bish azzandazé buzorgast. È troppo grande. Aya khilie buzorgast. C'è ci sono. Gujuddorat. Gujuddorant. Engwennoriabook.com Engwennoriabook.com Nove. È lontano da qui? Aya azeiva yinja duvorast. Tu vuoi. Shuma mi khahid. Vuoi? Aya mi khahid. È? È? Inast. È? Aya in. Che cos'è? Ancist. C'è una stanza con una doccia. C'è una stanza con la doccia. Aya ataghi badoosh vujud darat. Devo, devo. Man baid. Majburam. Devo comprare. Man baid becharam. Devo comprare un biglietto per viaggiare. Bara yessafar baid belit becharam. Man majburam bara yessafar raftan belit becharam. Dovrei. Man baid. Quanti anni hai? Shuma c'han sal darit senno shuma che qadr ast. Dove vivi? Kujo zindigimi konit kujo sakin hastid. Fami vedere, mostramelo. Be man nishan dahid. Anra be man nishan vedahid. Ralentare. Sorat ra kam konit. Aheste beronit. Voglio andare. Man mikhaaham beravam. Hai qualcos'altro? Aya shuma cize digari darit. Il contrario di grande. Mutazade buzorg. Non conosco la parola. Man kalamera ne midanam. Questo significa? An mani midahat. Vuol dire? Aya mani midahat. Cosa significa? Mani an cist. Come si chiama? Come si chiama? Be ce cisi gofte mi shabat. Cegune namide mi shabat. Come si dice per favore in tedesco? Cegune mitavan bezaban almane gofte zlutfan. Ho bisogno. Niyaz daram. Dov'è la valigia di Michael? Camedane Michael kujast? Ottimo. Kheli khub. Ovviamente, e chiaro. Albatte. Vazihast. Ok. Vahe. Ok nesun problema. Beseyar khub, moshkili nist. Non malhe. Bad nist. Non malhe. E'n bad nist. Vah bene. Khubhe. O famhe. Man gurusne hastam. Gurusne em. Sono setato. O caldo. Man teshne hastam. Ya, man atash taram. O caldo. Man daag hastam. Barae man daag hast. O freddo. Man sardom hast. Barae man sad hast. Penguenodierbook.com Dieci. Sono stanco. Man hastahastam. E' bel tempo. Fa bel tempo. Hava khubast. Hava ye zibai hast. Fa freddo. Hava sard hast. E' caldo. Hava garm hast. E' fantastico. Hava ali hast. C'è il sole. Hava oftobi hast. C'è vento. Hava badi hast. Mi scusi, per favore, quando parte il prossimo treno per Madrid? Be' bachshid. Be' bachshid. Quattro are badi che be' Madrid mi revet, che'y haricat mi konat? Il treno parte tra dieci minuti. Il treno parte tra dieci minuti. Deh taghi ghe di gar, qat or haricat mi konat. Parte alle dieci del mattino. Saate dahe sop mi revet. Quanto costa un biglietto? Hasinebili c'erat hast. Prima o seconda classe? Che los aval yo dovom? Seconda classe, per favore. Los aval yo dovom. Sono duecento euro, fa duecento euro. Die visti euro hast. Indie visti euro mi shavad. Domani alle dieci, oppure, vorrebbe un biglietto per il treno per Parigi? Far da saate dahe sop, ya, o yek belit bara ye ghat or be Paris mi khaahat. Mi scusi, per favore, dov'è l'autobus per la spiaggia? O, da, da dove parte l'autobus per la spiaggia? Bebachshit, lotfan, autobus sahel kujo ast, ya, az, kujo autobus be samt sahel harakat mi konat. Lagjou, a sinistra. Antaraf, dar samt e chap. Quale? Ci sono molti. Kodam yek ziyad ast. E' il numero cinque. In shomare panjast. Grazie mille. Bessiaras shomamu tashakiram. Questo autobus va in spiaggia. Aya in autobus be sahel mi ravat. No, il numero cinque va in spiaggia. No, shomare panj be sahel mi ravat. A che ora parte l'ultimo autobus per la spiaggia? L'ultimo autobus parte alle cinque e venti. Akhirine autobus saate panj o bi stari qui astro harakat mi konat. Mi scusi, per favore, dov'è la banca piu vicina? Bebachshit nasdiktarine banca kujast. Di che cosa hai bisogno? Che cizi shomani azdarit? Vorrei cambiare dei soldi. Mey koham miqdari pula vazkonam. C'è una banca dall'altra parte della strada, sulla destra. Yek banca darsamte digare khiaaban darsamte rast wujud darat. Qual è il tasso di cambio oggi? Nerghe arz emruz ce ghat rast? Sono 1,22 dollari per euro. Har euro bistu do dolarast. Vorrei comprare euro. Mey koham euro be kharam. Quanti? Che te dat? Vorrei cambiare 100 dollari. Mey koham 100 dollari. Vorrei anche delle monete, per favore. Mey koham miqdari se ke mi koham, lotfan. Eccoti. Khohish mikonam. Gabelina darat. Grazie mille. Bessiar az shoma muta shakkeram. Mi scusi, per favore, ancora stanze da affittare? Mi scusi, per favore, ancora stanze libere? Bessi. Bessi. Aia henoz otaq haiai beraia egiare dari? Bessi. Bessi. Aia shoma henoz otaq khuali dari? Sì, naturalmente. Bela hat man.